Benfica Juve 4-3, Dinamo Zagabria Milan 0-4 Questi sono i risultati delle due partite delle nostre italiane impegnate in Champions nella serata di ieri Una Juve che perde 4-3, perde meritatamente la partita Nonostante nel finale con un po' anche di entusiasmo ed euforia Quella tanto decantata come pericolosa dall'allenatore della Juve Max Allegri nel pre-partita In cui è stato detto che l'euforia dei buoni risultati del campionato Degli ultimi buoni risultati del campionato avrebbe potuto influire negativamente sulla partita di Champions Beh, secondo me è stato il contrario, l'euforia ti ha aiutato a non fare l'ennesima brutta brutta figura in Europa Mentre a Zagabria è andato in scena uno show del Milan, uno show di solidità Uno show di personalità, uno show di una squadra che sa cavalcare i momenti difficili Sa oltrepassare e farsi forza con quelli che sono anche gli episodi sgradevoli Che gli sono accaduti nel recente passato in Champions E con lo 0-4 di Zagabria, campo difficilissimo dove il Salisburgo aveva pareggiato E dove il Chelsea aveva perso la prima del girone Di poterti poi andare a giocare il passaggio del turno Con due risultati su tre nell'ultima partita in casa a San Siro contro il Salisburgo Ma ne parliamo, ne parliamo, ne parliamo in un unico video che dividono in capitoli Innanzitutto buongiorno, dai miei soliti orari comodi registro questo video Sono le 5.40 di mattina, ieri non ho potuto registrare il video Però non potevo lasciarvi senza dopo queste due bellissime partite E quindi sono qui alle 5.50 prima di andare al lavoro a registrarvi questo video Quindi spero che questo sia apprezzatissimo da tutti voi Da dove partiamo? Partiamo dalla sfida del Dalus Sfida del Dalus che è difficile da commentare Ripeto, la Juve si è salvata, cioè ha salvato la faccia Grazie all'euforia dei propri giovani Che probabilmente continuano ad essere l'unica nota positiva di questa stagione Tanti giovani interessanti inseriti che probabilmente stanno sbocciando E che probabilmente dovrebbero avere più spazio Perché probabilmente con quell'euforia e con quella spregiudicatezza Che portano, sicuramente possono far bene a questa Juve Juve che ha subito maledettamente nei primi 60-65 minuti Un Benfica predominante in tutto A livello tecnico, a livello fisico, a livello di intensità Una squadra che ha dimostrato in questo girone E in questo inizio di stagione di essere una formazione temibilissima per qualsiasi avversario Non ha perso il doppio confronto con il Paris Saint Germain Ha vinto il doppio confronto con la Juve E già questo ci fa capire la caratura di questa squadra Che con giocatori normali sicuramente dotati tecnicamente E con ottime idee sicuramente infuse dal tecnico del Benfica Hanno dato dimostrazione di quanto molto spesso i progetti tecnici e le idee valgano molto di più Dei singoli giocatori Una Juve che è entrata male in campo Una Juve che ha subito l'1-0 E è riuscita a pareggiarla Ma poi ha preso altri due schiaffoni Con delle azioni di qualità, sì Ma anche con delle dormite molto evidenti a livello difensivo Una Juve che è apparsa in difficoltà Che è stata graziata nel secondo tempo Perché il risultato poteva essere molto 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 più ampio e negativo Per gli uomini di Allegri Che escono automaticamente dalla Champions Meritatamente E secondo me si tratta da fare una grandissima riflessione Adesso bisogna fare una buona figura Nell'ultima di campionato Perché non c'è ancora l'aritmetica qualificazione All'Europa League E un passo falto con il Paris Saint Germain E un'incredibile vittoria del Maccabi Haifa contro il Benfica Potrebbe addirittura far uscire la Juventus da tutto Il che non so quanto sia un bene per la società Ma forse potrebbe essere l'unica soluzione Perché poi dovreste andare a giocare il giovedì L'Europa League con l'obbligo di vincere quella competizione E dovrebbe sostenere Cioè ci sono tante valutazioni da fare Io credo che la Juve andrà in Europa League Perché non credo che il Maccabi Haifa riesca a battere il Benfica Ma è tutto da vedere Anche perché Benfica e Paris Saint Germain sono già passate Si giocano il primato sicuramente del girone E il Paris Saint Germain andrà a cercare di vincere a Torino Come il Benfica cercherà di andare a vincere in trasferta Per passare come e sorprendentemente come prima del girone di Champions E una Juve che deve fare una grossa riflessione Grossa riflessione anche su quelli che sono i giocatori Che dovrebbero essere quelli più esperti Che sono sembrati molto annebbiati Due tra tutti che sono quadrate e bonucci E che deve ripartire secondo me dalla vivacità dei giovani Perché i risultati, gli ultimi risultati in campionato Sì sono stati sicuramente buoni Però secondo me non bastano a definire La Juventus come una squadra in salute Come una squadra in netta ripresa Come una squadra che sta ritrovando quel percorso Perché la partita di ieri al netto del risultato È un'altra partita di quelle difficili da interpretare Perché la Juve Che ripeto Dovrebbe essere la squadra Che in Europa Porta in alto il nome dell'Italia Ha fatto maledettamente fatica Maledettamente fatica sul ritmo Maledettamente fatica Sull'idea tattica Maledettamente fatica in tutto E ha denotato una confusione Che è anche quella dell'allenatore Imbarazzante E l'euforia Di cui aveva paura Allegri In realtà Ha aiutato la Juve a salvare la faccia Perché l'entrata Dei giovani Healing Sulle Miretti Comunque ha dato vivacità Spregiudicatezza E Questi ragazzi hanno dimostrato di non avere paura di niente Cioè di entrare Con grande personalità a partita in corso Di cambiartela e quasi di fartela pareggiare E quindi di salvarti un po' La faccia Anche se io credo che alla fine Non sarebbe stato il risultato giusto Il pareggio Seppur cercato E magari a tratti anche meritato Per le azioni costruite dopo Ecco dopo il 4-2 e il 4-3 Però la Juve deve riflettere Deve riflettere Deve secondo me Come ho sempre detto Cercare di guardare oltre E di fare un passo avanti Perché Rischia di danneggiare seriamente la sua stagione Con tutti poi i discorsi economici E societari che ne andranno Poi incontro E quindi niente ragazzi La matematica Spodesta la Juve dalla Champions Vediamo per l'Europa League E questo Non c'è molto da dire Per quanto riguarda invece la partita di Zagabri Anche qui c'è poco da dire dal punto di vista tecnico Il Milan ha dimostrato per l'ennesima volta Di saper utilizzare tutto ciò che gli accade Come forza per andare avanti Come forza per andare avanti E la dimostrazione di maturità Che ha dato ieri a Zagabria È una dimostrazione veramente molto molto importante Non solo di una squadra organizzata E che tatticamente e tecnicamente Sa quello che deve fare Ma caratterialmente ed emotivamente valida Specchio incredibile di un allenatore Che da quando è arrivato al Milan Ha fatto dei passi da gigante Perché è un allenatore che a differenza di altri Comunque ha cercato di studiare Di innovarsi Di trovare idee nuove Lo ha fatto E con giocatori E con l'aiuto di qualche fuoriclasse È riuscito a creare una formazione Che secondo me Ha poco da invidiare A tantissime squadre in Europa Lo si vede dal fatto che Chiunque entra Sa quello che deve fare Chiunque entra Sa quello che deve fare Chiunque entra Si rende utile alla causa E il Milan di ieri Dà una grande dimostrazione Di calcio Di personalità E soprattutto Di visione societaria Nel senso che la società Ha investito Quello che poteva Ha trovato giocatori Adatti alla causa Li ha inseriti in un contesto E li ha resi speciali Semplicemente questo E rendendo speciale Quello che si ha Dimostra la La validità Della società E la validità Di un progetto tecnico Che è in continua Ascesa Milan che vince 0-4 Con un gol Di gabbia Ragazzo che Si è fatto trovare pronto Come tutti Aveva sofferto un po' Nella partita di Verona E ha fatto una gran partita Ieri Con il primo gol In maglia rossonera Se non sbaglio Comunque sicuramente Il primo gol in Champions E Con una buonissima prestazione Grande solidità Del centrocampo Come al solito Benasera e Tonali Dimostrano di essere Padroni Del centrocampo Di fare un po' Quello che vogliono E poi Lo strapotere fisico E tecnico del solito Leao Che Seppur con un po' Di fortuna Fa un gol straordinario Ieri Perché poi Quando arriva davanti Allivakovic È freddo E Sigla il gol del 2-0 Che taglia le gambe Alla Zagabria Ma comunque Il Milan è andato Su un campo Dove Salisburgo E Chelsea Non hanno vinto E hanno faticato Tantissimo Dove addirittura Il Chelsea ha perso E abbiamo visto Il Chelsea Quello che comunque è E che squadra Ha a disposizione Tu vai lì Vinci 0-4 Senza praticamente Subire nulla E Ti dai la possibilità Di poterti andare A giocare la qualificazione Con due risultati su tre A San Siro Contro il Salisburgo Che Per quanto mi riguarda Deve star stretto Al Milan Perché il Milan Secondo me Ai nastri di partenza Se la poteva giocare Con il Chelsea Per vincere questo girone Però è riuscita Nelle immense difficoltà Che comunque Ha trovato in un girone Complicato Di andartela a giocare Anche per il Secondo posto All'ultima giornata Con due risultati su tre E questo per me È Importante Importante per la crescita Del gruppo Importante perché Andando avanti Comunque Metti ancora Esperienza In squadra Perché queste partite Lo sappiamo Sono fondamentali Per la crescita Dei giocatori Più e meno giovani E niente ragazzi Questo È quanto Milan Che vince meritatamente Che ci dà ancora Una dimostrazione Di forza E che È di squadra Che riesce A superare Qualsiasi difficoltà Qualsiasi ostacolo Anche perché Era riduce Da due sfide Che comunque Almeno in Champions Avevano lasciato Un po' La mano in bocca Per tantissime cose E per il risultato E anche per alcune Decisioni arbitrali Alquanto discutibili Almeno E quindi niente ragazzi Questa era La mia opinione Qui sotto nei commenti Iscrivete la vostra Lasciate un like Iscrivetevi al canale Se volete Intanto è gratis Basta un click Sul tasto iscriviti E iscrivetevi anche Al canale Telegram Qui sotto nel link In descrizione Per questo video È tutto E niente ragazzi Un grande abbraccio Buona giornata A tutti Buon lavoro Buona scuola In base a quello Che andrete a fare Dalla vostra Andrea A tutto Ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video